È da tempo che Laura non riesce a vedere il suo conto in banca in positivo. Magari ha solo bisogno di un nuovo paio di occhiali da vista. Dall'ottico di fiducia puoi effettuare l'esame visivo professionale gratuito. L'ottico di fiducia si prende cura dei vostri occhi con la massima professionalità e la sua consueta cortesia. Una scelta davvero straordinaria, con centinaia di occhiali da vista e da sole. L'esame visivo è effettuato da ottici specializzati. Personale competente nella scelta della montatura e delle lenti ti assiste fino alla consegna del prodotto. Siamo specialisti nella consulenza e nel montaggio di lenti progressive di ultima generazione. Assistenza, manutenzione su occhiali da vista e da sole, vendita e applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto. L'ottico di fiducia ti aspetta a Villa San Giovanni in via nazionale 584, telefono 0965 75 85 02 e a Melito di Porto Salvo in Corso Garibaldi 2C, telefono 0965 78 39 55.